Allora, c'è una targa e come sapete è questo, Mirko. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutarli? Ma io ho trovato... Ma io, diciamo, nell'insieme mi ha colpito questa tronda sonora perché erano pochi tocchi ben riusciti, non troppo come le pennellate sonora che descrivevano perfettamente l'atmosfera senza bisogno di immagini, per cui immagino piccoli immagini, la cosa sia stata ancora più interessante e profonda, ma secondo me è stato veramente l'unico e' un colpito di ragione che attraverso il sole ha espresso completamente il suo senso. Grazie. Grazie. Questo è buono, anche per voi. Lo consiglio a Mirko Bencacci. Grazie.